La prima gioia per il Città di Potenza arriva in diretta a TV sugli schermi di Re Sport 1. Arriva soprattutto dopo sei sconfitte, quattro consecutive e un pareggio. 2-0 contro il Taranto e Oro Colato per la classifica del Rosso-Blu Lucani. Alberigo Volini è allenatore pro tempore. Dopo le dimissioni di La Cava cambia parecchio dopo lo scivolone di Foggia. Squadra disegnata con il 4-3-3 Tortora al centro dell'attacco dall'inizio. Pettinicchio presenta un Taranto più folto a centrocampo con tre difensori e tre attaccanti. La paura di perdere dei potentini e l'evanescenza dell'attacco ionico producono un primo tempo mediocre. Portieri onoperosi o quasi solo un paio di timidi tentativi per i bianchi ospiti. Il primo addirittura dopo mezz'ora fa tutto Fumai. Vicedomeni e Bongermino non sono reattivi davanti a Della Luna. Poi Vicedomeni e Fumai accompagnano negli spogliatoi un più che mai scontato 0-0. Nella ripresa il Potenza si presenta in campo con maggiore serenità e si vede subito. La manovra è fluida. Il 4-3-3 di Volini si apre bene e nell'arco di quattro minuti mette un'impronta indelebile sulla partita. Dodicesimo Caratuozolo buche due centrali Tarantini e non lascia scampo a Maraggino. La squadra di Pettinicchio in evidente difficoltà. Il ros-blu Lucani sfrutta nel momento azione tutta in verticale conclusa vittoriosamente da Tortora e il sedicesimo gara chiusa o quasi il Taranto impercettibile pressa ma senza mai far male. La difesa di casa se la cava sempre anche con un pizzico di fortuna attraversa di Papa e poi sfiora addirittura il trissi in contropiede con Caratuozolo. Ma va bene anche così si chiude sul 2-0 meritato e costruito da una squadra che mostra evidenti segnali di ripresa.